Ultima ora, molto 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 importante, ben ritrovati amici rossoneri, come state? Buon sabato, buon weekend, buon Milan a tutti, un grande, grandissimo Forza Milan, tutti uniti, come sempre, chi va allo stadio, chi sta a casa, chi segue dalla tv, chi dallo smartphone, insomma, tutti uniti. Oggi mi raccomando lasciate un bel like, ogni like è un bel Forza Milan e iscrivetevi qui in questa zona se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, ragazzi, calore, passione, sicuramente adrenalina è vista una gara molto importante contro la Juventus, che dobbiamo tenere sotto, sicuramente starà sotto, però ecco, oggi è importante tornare a fare risultato pieno. Bisogna vincere, il pareggio andrebbe tutto sommato meglio a noi che a loro, anche se a quel punto il Napoli potrebbe prendere il largo, magari anche l'Atalanta. In ogni caso, ecco, è importante che non accada quell'altra cosa lì, che ultimamente è capitato un po' troppo, perché nelle ultime tre ne abbiamo perse due. Abbiamo perso contro il Napoli, abbiamo vinto con l'Empoli e abbiamo perso contro il Chelsea, quindi invertire la rotta subito, subito, subito. Poi si giocherà ancora martedì in Champions League, in un periodo molto, molto, molto fitto. Nella Juventus, tra l'altro, non dovrebbe giocare Paredes, dovrebbero piazzarsi con un 4-4-2, con ovviamente in Porta-Scesni, Bonucci-Bremer in mezzo, sulla sinistra Alexandro, sulla destra Danilo, ad occuparsi di Leao. Lucatelli e Rabiot al centro, con Costice a sinistra, quadrato a destra, in avanti Vlaovic e Milik, che è recuperato. Però la grande sorpresa riguarda il Milan, devo dire che mai come questa volta ero, e sono curioso, di capire che cosa si inventerà il nostro mister, che comunque prepara sempre le gare da un punto di vista tattico in maniera ricercata, sopraffina e spesso e volentieri anche vincente. Spero che possa essere lo stesso anche oggi. Perché ci sono delle assenze, perché ci sono dei giocatori che non stanno rendendo, e quindi mai come oggi, davvero quando, credo intorno alle 16.55-17, riceverò la formazione dal Milan, avrò curiosità di aprire il Whatsapp, di scaricare la foto e di vedere chi gioca. Quindi oggi davvero, mai come oggi, secondo me c'è incertezza e ci può essere una sorpresa. Però rispetto alle sorprese di ieri, siamo una sorpresa nuova, nel senso che ieri si andava verso una formazione con ballottaggio sulla destra, Calulù d'Est, con il vero ballottaggio poi tra Dest e Gabbia. E in avanti tra Brian Diaz e De Ketelare. Fino a ieri, fino a stanotte, fino a stamattina, la formazione doveva essere con Tatarusano in porta. Sulla sinistra Teo Hernandez, poi Tomori-Gabbia e sulla destra appunto Calulù. Calulù che si occupa di Kostic e Gabbia sulle palle alte, un po' più performante rispetto magari agli altri. Togliere Dest che fin qui non ha fatto un gran bene, ecco. Centrocampo Tonali-Ben Nasser, sulla destra Krunic, sulla sinistra Leao, anche se Krunic più mezzala. In avanti appunto Giroud, anche se secondo me Rebic oggi sarebbe la partita per lui, perché comunque, adesso veniamo alla novità clamorosa, perché non dà riferimenti. Mentre è vero che con il teorino aveva segnato l'anno scorso Giroud, ma Bremer l'aveva proprio franco bollato in una maniera incredibile. E poi il dubbio di Elz Dechetelare con il primo favorito. In questo punto di vista, da questo punto di vista, puoi togliere un po' di... Poi sembra che dai un po' di sfiducia a Dechetelare, che magari avrebbe bisogno di fiducia, però è vero che in questo momento non devi guardare in faccia nessuno e probabilmente Bremer si dà più vivacità. La novità clamorosa però dell'ultimissimo secondo riguarda le quotazioni decisamente in rialzo per uno di noi, uno di Milanello, un rosso-nero, come Tommy Pobega. Attenzione alla grande sorpresa Tommy Pobega, che potrebbe giocare titolare dall'inizio, al posto di Krunic. Quindi, ragionando insieme a voce alta, cari amici, credo, considerando gli interpreti, che il Milan si schiererà come? Con i quattro, che vi ho detto, Calulu, Gabbia, appunto, Tomorito e Hernandez. Per cercare di sigillare un po' la difesa, probabilmente mettiamo un centrocampista un po' più di contenimento, che però può andare anche a inserirsi, visto che Tommy è uno che va a inserirsi anche il vizio del gol, e che è bravo anche sulle palle alte. Attenzione a questo particolare. Vero che anche Krunic è più o meno lo stesso. Però credo che si possa giocare quindi come? Con un centrocampo a tre. Evidentemente con un centrocampo a tre. Con Tonali e Benasser che si alterano su costruzione. E mezza la pobega di inserimento. Credo che possa essere questo. Poi là davanti, là davanti, una sorta di o albero di Natale, con Leao centro-sinistra, Diaz centro-destra, giù davanti, oppure il trequartista Diaz e Leao sposizionato un po' più avanti con Giroud. Insomma, là davanti sono tre, evidentemente. Più posizionati come? Lo capiremo stasera alle ore 18. Se il gioco a Pobbega, sicuramente una sorpresa. Se vogliamo anche una bella sorpresa, perché significa che comunque sta facendo bene, si sta meritando la fiducia del tecnico in una gara molto importante. Porta che cosa? Fisicità, centimetri, bravura sulle palle alte, anche inserimento e vizio del gol, perché comunque lui, credo che per media gol, non mi sbaglio, potrei sbagliarmi, ma in questo caso non mi sbaglio, minuti gol, lui è il migliore in Serie A del Milan a centro campo. E quindi questo è un valore che non va trascurato. Vediamo se è confermata questa sorpresa dell'ultimo minuto, sicuramente sarebbe clamorosa, coraggiosa, e voglio capire poi la chiave tattica della partita che ha preparato Mr. Pioli. Che cosa ha in mente? Perché Pobbega e perché non Krunic? Perché Diaz e non De Ketelare? Dietro la spiegazione abbiamo data, nel senso che comunque Destro non sta facendo bene, con Calullo provi ad arginare Kostic, e al centro appunto è un giocatore sulle Valle Alte più bravo. L'obiezione, perché non Ciao che è capitano dell'Andal 21 tedesca? Perché Ciao non ha mai giocato, perché probabilmente Gabbia merita fiducia dopo un ottimo precampionato. È vero, voi penserete in tanti, probabilmente l'ho pensato anche io, l'ultima volta che hanno giocato Tataru Sanu e Gabbia con Vlaovic davanti, è stato un disastro a Firenze, l'anno scorso. È vero, però insomma, fidiamoci in questo caso di Mr. Pioli, di fronte a un pubblico tutto esaurito, tra l'altro volevo prendere i biglietti per il Monza, l'altro giorno, ore di 12, giovedì inizia la prevendita, coda, 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 arrivo, in pratica tutti esauriti. Non so se poi ne rimetteranno altri in vendita, però insomma c'è, c'è anche difficoltà con uno stadio da quasi 80.000 posti, figuriamoci poi un domani se verranno ridotti a 60-65, insomma anche questo è un punto su cui riflettere, ma non oggi. Oggi pensiamo al Milan, ditemi che cosa ne pensate di questa formazione rivoluzionaria, iscrivetevi qui ragazzi, mi raccomando, chi non si iscrive ti fa Juventus, vi voglio sfidare così, lasciate un bel like qui sotto, e se vi va iscrivetevi anche al mio secondo canale, in cui faccio dei video un po' più flash, di un paio di minuti, per chi magari non ha tempo in quel momento di vedere un video un po' più approfondito, iscrivetevi qui sotto, vi metto il link, vi rimando a quello, un abbraccio a tutti, forza Milan ragazzi, tutti insieme oggi è troppo, troppo importante, e se gioca Pobega, forza Tommy, uno di noi, un abbraccio a tutti, e a prestissimo, più tardi, vi rimando anche al video di Martinelli se volete, scatenatevi nei commenti ragazzi, viviamolo insieme, condividiamo, 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 un abbraccio.